Ancora pochi giorni e la prima fase dei lavori di restyling del San Paolo sarà conclusa. Come da cronoprogramma, il Comune di Napoli consegnerà entro martedì prossimo per l'incontro di Champions con il Real Madrid la prima parte delle opere di ristrutturazione eseguite dalla Napoli Servizi. Oltre un milione di euro per rimettere a nuovo bagni e spogliatoi della squadra ospite, il tunnel centrale che conduce al campo, il garage degli autobus dei club, completati inoltre i servizi igienici della tribuna autorità, l'adeguamento dell'impianto antincendio ed è a buon punto anche la riqualificazione della tribuna stampa. I lavori hanno impegnato circa 70 operai su tre turni giornalieri. Questa mattina il sopralluogo con l'assessore allo sport Ciro Borriello che ha annunciato l'avvio a breve della seconda fase di interventi. Almeno per questo primo step di lavori siamo in tempo, come dire, una volta tanto abbiamo dato dimostrazione che quando c'è impegno si possono raggiungere degli obiettivi. Questo è soltanto il primo passaggio, la prima fase, ci attenderanno momenti più impegnativi, i nostri uffici già sono al lavoro per la seconda fase che prevede i lavori, da un secondo stralcio per circa 3 milioni e 600 mila euro di un impegno di spesa che già abbiamo in cassa e dobbiamo soltanto iniziare a lavorare. Sono attivate già tutte le procedure sia tecniche che di gara, stiamo, come dire, nei tempi. Vogliamo consegnare nel giro di un paio d'anni uno stadio completamente nuovo ai napoletani.